257 nuovi positivi, 12 decessi e un lieve calo di ricoverati e degenti in terapia intensiva. Questo in sintesi il bollettino delle ultime 24 ore di emergenza covid in Abruzzo. I tamponi analizzati sono stati 4.309, dunque il tasso di nuove positività resta piuttosto stabile, attorno al 6%. Come detto è ancora pesante il bilancio delle vittime. Da inizio emergenza siamo a quota 1.084. Crescono a grandi numeri i dimessi guariti, più 724, anche se il numero di persone ricoverate continua ad essere elevato, 599, di cui 56 in terapia intensiva, anche se a livello nazionale l'Abruzzo è scalato nella seconda metà della classifica per quanto riguarda l'occupazione dei reparti, segno che comunque le restrizioni stanno funzionando. Ancora tantissime le persone in isolamento domiciliare, oltre 13.300, poco di più quelle attualmente positive, che ad ogni modo sono in calo, meno 481 rispetto a ieri. Tra le cattive notizie, oltre ai decessi, il contagio all'interno del San Camillo di Atessa, dove sono risultati positivi 11 pazienti e 6 operatori del reparto di riabilitazione, i cui ricoveri sono bloccati. Tutti i positivi sono asintomatici. Dal secondo piano del presidio sanitario, i pazienti positivi sono stati trasferiti al terzo piano, che ospita la medicina Covid-19, mentre gli operatori sono in isolamento domiciliare. Per la ASL di Chieti ha funzionato il sistema adottato. Per separare e filtrare le diverse unità operative è impedito dunque l'estensione del contagio ad altri reparti. I locali della riabilitazione sono stati sanificati e i pazienti negativi al tampone molecolare sono stati precauzionalmente sistemati in stanze singole in attesa del secondo tampone di conferma. Se quest'ultimo risulterà negativo, cesseranno l'isolamento e l'unità operativa potrà accogliere nuovi ricoveri.